che è gratuito per voi per questa notte in piazza e poi l'inda l'istituto nazionale del dramma antico che quest'anno farà una stagione bellissima e ancora i gm ricordate di separare sempre carte cartone per tenere pulita la nostra bellissima siracusa il consorzio gp del limone di siracusa la com commercio siracusa corvaia tino corvaia idee progetti e opere l'istituto superiore alessandro rizza di siracusa bosello centro expo casa città giardino improntati con il mondo di visto cittina venice a trovare il cna di siracusa gran caffè del duomo un buon lavoro agli amici del gran caffè umberto genovese gruppo guerchi ottica quartarone ristorante l'ancora e adesso un ringraziamento fm italia con la musica ok adrenalina incredibile guarda guarda caro toti rispolvera la tua conoscenza delle lingue perché c'è claudio rossito che ci saluta dagli io però meno male che si chiama di claudio rossito ci sono piena così abbanata parla italiana abbanata viene così ciao claudio dalle due parti quante volte festeggi così oggi il capodanno che sarebbe bello da sapere poi un saluto a leo buon arrivo da sua sorella è bellissimo c'è anche mia sorella c'è anche mia sorella che è che sa